Il Movimento 5 Stelle sollecita la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara a migliorare la qualità delle acque nella zona di Via Leopardi, dove per 5 anni consecutivi sono state rilevate criticità. Non stiamo facendo allarmismo, ma vogliamo star a guardare la salute pubblica e ci auguriamo che la Regione e il Comune intervengano scongiurando che si ripeta quanto già avvenuto nel 2015, quando alcuni bambini sono finiti in ospedale dopo aver fatto il bagno perché colpiti da gastrointeriti. E quanto hanno detto nel corso di una conferenza stampa la deputata Daniela Torto, che ha presentato un'interrogazione al Ministero della Salute, la consigliera regionale Barbara Stella, che ha depositato un'interpellanza per chiedere chiarimenti alla Regione, e i consiglieri comunali Massimo Di Renzo e Giampiero Lettere, i quali chiederanno al sindaco Carlo Masci di indagare con estrema attenzione su eventuali ulteriori sversamenti non autorizzati. I pentastellati contestano la delibera della Giunta regionale, che ha di fatto cambiato il punto di prelievo da Via Balilla, dove da alcuni anni l'Arta ha rilevato una situazione non ottimale a Via Leopardi, con conseguente divieto temporaneo di bagnazione, ma senza tale cambio sarebbe stato necessario un divieto permanente, poiché in base alle leggi vigenti tale tratto per ben cinque anni consecutivi è stato classificato di scarsa qualità. I rilievi non garantiscono però che nell'intera stagione balneare si siano messi in campo dei provvedimenti, e questo è il compito della Regione, quindi non c'è nessun tipo di allarmismo, ma noi ci preoccupiamo della salute dei cittadini, che è una delle priorità di tutti noi. Intervenire la Regione innanzitutto dando seguito alla risposta che ci ha dato il Ministero della Salute e quindi modificando la delibera di Giunta, in questo modo ponendo il divieto permanente deve mettere in campo tutte le azioni volte a ripristinare una qualità delle acque perlomeno sufficiente. Vogliamo che si indaghi ancora più a fondo valutando la possibilità che ci siano altri sversamenti non soltanto sull'asta fluviale ma anche sulla riviera, tratti nei quali nel passato c'erano due pompe di sollevamento che sono state superate dal nuovo impianto, dal nuovo collettore. Un'occhiata più precisa in quei punti probabilmente potrebbe anche riservare delle sorprese. Grazie